Allora Cap, te lo dico, questa la dobbiamo per forza vincere, provo Per forza, per forza Allora, comunque, partiamo dal fatto che ti ringrazio che sei qua perché ci ho voluto tanto Ah, di niente, di niente, di niente, ma ancora non ho capito esattamente tu chi sei Allora, io sono il cugino di Calpis e oggi era il mio compleanno e quindi Calpis gli ho chiesto ovviamente se mi potesse fare la partita con il mio giocatore Ma quanti anni fai io? Io ne faccio 9 Cioè, in realtà, 20, no, 26, 29, no, scusa Ma vedo che sei vero preciso No, scusa, mi sono abbastanza imbarazzato, è la prima partita che faccio con uno youtuber famoso, grazie Cap Ah, allora perché c'è bene con me? Eh, perché tu sei uno youtuber fanfoso Ah, ok, 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 scusa Ma tu hai capelli verdi? C'è gente davanti a me? Ah, ok, ma sicuro con i capelli verdi Ah, allora, sei tu vero quello con i capelli verdi? Ehm, no Crazy mad, ah no, scusa Il più basso di Youtube Italia, quindi non sei te No, ma allora fai schizzi Anzi, per fortuna ti direi di no Ma no, ma sto scherzando Comunque, allora, senti Cap Io vorrei vincere la partita perché è il mio sogno, il mio sogno di compleanno È il tuo sogno di compleanno? Sì, sì Tu hai sognato nel compleanno questa cosa? Aspetta Sì, di vincere una partita Ma come ti posso chiamare? Luca Abete Luca Abete o Gino il Pulcino Luca Abete? Gino il Pulcino è un altro Può chiamarlo che avete? Ah, ok Divi che Luca Abete è tuo padre Conosci Gino il Pulcino credo che sia perfetto No, ma aspetta, lo conosci no, Luca Abete? Sì È mio padre? Sì Quello che fai Sì, il cugino di Calpis Ah, il cugino Il cugino di Cioè, tu sei Crazy Mad Ma che c'entra? Senti, c'è gente da me Per favore, non moriamo Cap Ora ti c'è talmente tanto Il idolo che vi entri in casa di no Quindi ti posso chiamare? Luca, Luca Semplicemente Luca Luca, perfetto Comunque Sai che sei così tanto il mio idolo Che ti vorrei entrare in casa? La notte Beh Beh Anche se in realtà Lo farei più che altro Per caso che per te Se devo essere sincero Se devo essere sincero In realtà no Cap Scusami Se ti fermo un atto Ma lo farei più per cazzo Che è un bellissimo Certo, certo Vabbè, immagino Ovvio, ovvio Guarda Con Cazzo non c'è nessun problema Restamente se io entri in camera di notte Sì, però Lui mi ha detto No, aspetta Non scherba Lui mi ha detto Che comunque una cosa gli piace Ma ciò non è Non è il 27, 24 Ma no, dai Scusami Ti ho detto che ero un po' imbarazzo Ah, ok Cioè, ero imbarazzo di nome Comunque Di che se legge il tuo nome 89 Sta perché Quando hai creato la canta Avevi tra gli 8 e 9 anni Eh, mi spara No, no, no Lucchino Aspetta Comunque se leggi bene il mio nome C'è scritto 89 Perché ho creato l'account Proprio quando ero convinto Con i suoi centimetri Comunque c'è un problema C'è un problema Tra Tipo che ho 13 di vita Ok, curati con calma Comunque Ti volevo dire una cosa prima Non mi interessa dei centimetri o di altro Eh, ne sai qualcosa dell'uscita di Fortnite da mobile? Sì, 2002 Eh, no, no, no Fidati che sta riuscendo Ed è qualcosa di incredibile Ragazzi avete sentito proprio proprio bene Infatti stoppiamo per un minuto lo scherzo con Cap Che vi vado a spiegare bene nel dettaglio Come giocare a Fortnite in streaming da mobile Tramite l'app GeoForce Now E quindi partendo dall'inizio Che cos'è GeoForce Now? GeoForce Now ragazzi È la piattaforma di cloud gaming di Nvidia Che ti permette di giocare ai giochi che già possiedi dai principali store Quindi i tuoi giochi nei libri di Ubisoft, Uplay, Epic Games e molte altre E la cosa incredibile di questo GeoForce Now È che tu puoi giocare a questi giochi da quasi qualsiasi dispositivo Quindi ad esempio PC, Mac, Chromebook, Android Mobile, Android TV iPhone e iPad E addirittura dei browser Chrome Comunque questo sistema di GeoForce Now È come se inserisse una GPU Nvidia Migliorandone appunto l'hardware in un PC gaming GeoForce in cloud Intanto ragazzi va sicuro che io ci sto giocando in questo momento E anche se praticamente sto parlando con voi nel mentre Mi sto un sacco divertendo Perché capite che giocare a Fortnite da mobile è molto molto divertente Ma soprattutto guardate in alto a destra Sto facendo 120 FPS più o meno fissi Da mobile questa cosa è incredibile Comunque ci sono varie tipologie di abbonamento Tra cui l'abbonamento di GeoForce Now Standard Che addirittura è la versione gratuita Che però ovviamente ti dà degli accessi limitati Per poi passare al piano priority Che consente ai membri un accesso prioritario per ben 6 ore di sessione Che dà inoltre accesso a dei giochi in 1080p e 60 FPS con RTX on Fermi fatemi scappare una caramella di Natale mi stava picconando Ed infine addirittura un piano con la 3080 Che dà ovviamente accesso ai membri a server 3080 esclusivi E massimizza le sessioni Fino a 8 ore Ovviamente ragazzi vi lascio il link qua in descrizione Nella quale potrete confrontare tutti i prezzi Per decidere qual è il vostro abbonamento GeoForce Now migliore E nel mentre che io continuo a giocare con la 3080 su 4day mobile Voi continuate a guardarvi lo scherzo con Cap Aspè in che senso? Che c'è gente davanti a me E comunque Cap non possiamo morire zio Va bene? Va bene tranquillo tranquillo Fra Io comunque è Tic è Lean Si è appena rifatta Cosa? Scusa stavo cantando Sì Vado che stillata Sì Che stillata Ma no fa nulla Dedi che sei tu il vero capitano Lui non è nessuno Non ci credo Comunque zio guarda che sono io il vero capitano Tu non sei nessuno Allora chiedi Scudone Scudone Lucchino Io ti volevo fare una domanda molto importante Anche io li ho gli scudoni Però ti volevo chiedere Ma come sei rimasto in rapporti con Zerbian Sua sorella Con i servizi siamo amici Siamo amici Non è perché se c'è una bella ragazza Comunque Si è una bella ragazza Sua sorella Alla tua età Poi alla tua età ho sbaglio Lucchino No 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 Ha più la tua di età Ah Più che la mia Forca fatta A 15 che avrei una possibilità Aspetta un attimo Ci puoi provare con la sorella No Lucchino se ne hai provato con la sorella di Zerbia Ok allora Aspetta io Perché si registra Intanto che andiamo in safe Io c'è un canale youtube E sto registrando Quindi a tutti voi ragazzi nei commenti Iscrivetemi se dovessi mai provarci con la sorella di Zerbia Vai Lucchino Vai Lucchino È tutta tua Ok ce la faccio Lucchino guarda che lei in privato me l'ha detto Davvero Gli piacciono i ragazzi che si chiamano Dini che in realtà lei in privato ha detto che gli piaceva In realtà a me in privato mi aveva scritto Dato che c'è una pagina di Instagram di oltre 7 followers Che è molto attiva in questo momento Mi ha scritto lei Che gli piacevi te No no Lucchino è impossibile Impossibile Lucchino No sto scherzando Diceva che gli piacevo Io comunque se devi provare te Ok esatto Lucchino esatto Ripeto a voi a tutti i followers qua sotto nei commenti Scrivetemi se secondo voi la sorella di Zerbia Non ci può stare con me È un'altra cosa Ma allora tu stai facendo il video quindi Ah sì non te l'ho detto Cap scusa Eh no Ok comunque ti dico solo una cosa Nei miei video di solito faccio silenzio Quando non c'è gente Quindi adesso stiamo zitti Andiamo a pushare le persone Poi ricominciamo a parlare Va bene Silenzio Silenzio tombale da adesso Va bene No ci sono delle persone Cap Vai Lucchino Spara Vai Lucchino E va bene 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 Spara Incorpora Allora Sicuramente Vai avanti 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 Che mi sta sparando Un altro Lucchino 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 Di tipo tecnico tattico Ok sì sì Lo vedo Non per favore Di tipo tecnico tattico Lucchino Il caro armato è sfondato Ok sì 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 Ci conviene andare Urla Aspetta No 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 Andiamo Andiamo Brutta Brutta Cap Ti devo dire una cosa Si è franno Nel po' Il momento migliore Ma il motivo Per la quali Io ti ho chiamato Oggi In realtà Questo qui potrebbe essere Una bella cosa Ok In realtà Sei scarso Lucchino Baschettina Sei scarso Sei scarso Sei scarso Va bene Stavo scherzando Ti voglio bene Stavo scherzando Ah Lucchino Dietro Fermo Comunque Sei anche più scarso Però aspetta Ti voglio chiedere Una cosa importante Stai qua con me Ti voglio chiedere Una cosa No 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 Brutto Ti voglio chiedere Allora Di odio Cap Sentimi Sì Il mio Caro davanti a noi Lucchino No 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 Dobbiamo salire sopra Vai tranquillo Tranquillo ci sono Ok bravissimo Spaccalo Perfetto Comunque Fermo Inse caso Su fare la pizza La pizza Sì ti voglio chiedere Vabbè senti Ti voglio chiedere Una cosa importante Che è quella Che ti voglio dire Da inizio video Ovvero Io sono qua Per soldi Cap Cioè Ho bisogno Di dei soldi Cioè Per le Allora Ieri Ho comprato Oh No vabbè Lucchino Non hai visto La mia visuale Ma ho fatto Una cecchinata Ti giuro Ma tu zio Sei il king dei cecchini Sei il più forte Allo mondo Ucciso Comunque ti stiamo dicendo Ieri ho comprato Sette euro Dei pacchetti di figurine Di mille mattiz E non ho trovato Neanche mattiz speciale Come non hai trovato Mattiz speciale No Lucchino Questo è un problema No Dobbiamo rimediare Quello che non Dobbiamo rimediare Avrei bisogno Del pacchetto extra bit Che non mi sembra Ma Lucchino Vai tranquillo Non è un problema Te ne chiedo cento Bastava che me lo dicessi subito E quindi dato che ne servono dieci Te ne chiedo cento Io sono un problema Eh sì certo Facciamo Facciamo anche mille Un'altra cecchinata Oh mio Dio L'ho ucciso Questo No vabbè ti giuro Fra Porte veramente Allora Porco Con il cecchino Sono una bestia Comunque questa Questa metto nel video Capitan blazer No Moio Cap Mi sparano Capitan blazer The best cecchino No no ho finito Ho finito i colpi Oh aspetta un attimo Aspetta un attimo Lucchino Di più Sussere Il loro cap Eh che è successo Spara Sparo Sparo Dove Lucchino Da qua sotto Dove sono Nono dietro Ah Lucchino Sì È morte Morto Morto Fra No Ha preso Carri Armato Lo spacco 2 Scappa Scappa Qua Vai vai Rompirò 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 Corri Via Via Lucchino Ok Dovrebbe essere Morto Eccolo No Fra Non è molto Di vita Ho ucciso Bravo Lucchino Lucchino Non debite Ora chi disse Cazzo Attenzione Questa è un po' brutta È diminutivo Di cazzo Oh Ok Cap Ti volevo chiedere Un'altra domanda Un po' particolare Però se Se cazzo È il diminutivo Di cazzo Sì Come hai fatto A scoprirlo Beh diciamo Che è da Lucchino Non devi pushare Il carro armato Lucchino Non de carro Lucchino De carro Lucchino Non de carro Tranquillo Zio devi sederci sopra Comunque Ti ho fatto una domanda È il diminutivo Di cazzo Ti fra Ma veramente Giuro Ma quindi Amici followers Amici followers Abbiamo sgamato La dura verità Di cazzo San E il suo Brasso Ma il carro Giuro Devo stando Aspetta Non ho capito Di cazzo Di cazzo Ma quindi siete cazzo Ma quindi siete cazzo E cazzo E cazzo E cazzo No 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 Bruchissima Ok Comunque Allora Stanno bombardando Non so Mamma mia Allora fermo Voglio Voglio dirti un'altra cosa Molto importante Vai Ma A cacca Cioè voi siete il trio A cacca Cacca e capo E capo a casa Ok Molto divertente Però No dai a parte di scherzi Lo sai che io sono Ti dì da dove Da dove deriva questo nome di Guarda ti chiami gino gamer 89 Diggi che non vedi un nome del genere Cosa gino gamer 89 stai dissando Io ti ricordo che ciccchio che meno 89 è nato così E poi no a parte i scherzi ricordi che si sto facendo il dito Non farmi far tutte figure che non mi riferisco online No 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 va bene Lo diffonderò online Non è ancora tanto un avvocato abbastanza bravo Per favore Io ho quasi ucciso uno Hanno rifiutato Ha rifiutato è rifiutato Cap saliamo Hai lucchino è rifiuta 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 Rista Dobbiamo per favore accendere Ha rifiutato da tutte Che mancano 11 persone Potrebbe essere amico di kazu Quindi distruggiamole Allora vai a terra prima di loro Di loro Ma è uno ma sai fare la matematica Cioè io la costruita Tutti nella di quelle calmate Ok fra guardami 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 se volete dire Un bacio Non mi spara 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 Ti dico solo che intanto Lo uccido in volo Sono da una skybase Ha uno di vita Oh mio dio No vabbè fra Vabbè no regali è bastante Ok sei troppo forte Quanto e chi l'hai? 5 Io me lo metto Non mi spara Intanto non mi spara Non so perché Certo Comunque c'è un altro da me Comunque puoi dire H Che No fra non ho mazzo Mi devi dare i mazzo Io nove anni e vorrei star con lui Ascolta mi devi dare i mazzo No in serio Se posso intanto faccio vedere il tizio Questo qua che E' in alto Ha uno di vita zio Non è male fra ma mi servono mazzo Non sto scherzando Non continuo a spaccare Oh digli che deve Mi servono mazzo No 120 Devi stare zitto un attimo eh Allora te prima di tutto zitto un attimo A me non me lo dici Invece Ridiglio Lucchino Devi star calmo te Stai zitto Lucchino Lucchino ti giuro che è guito Ma non me ne prendo un corno Calpis mi ha detto che avresti giocato con me Tieni un po' di me Calpis può dire quello che gli pare Per quanto mi riguarda Ma scusa non è tuo amico No Ma come Eh no E quindi non è un ferro È tuo migliore amico Io voglio parlare un po' di ferro Che secondo me Lui è l'unico del tuo team Che salva il tuo canale Cioè senza di lui Il tuo canale sarebbe andato a quel tal paese Sì magari senza di lui Sarebbe andato talmente bene Che star avrei due milioni di iscrivoli Ma scusami Ma lo stai prendo in giro Ferro Certo Lui guarda che Servono i mazzo Insomma aspetta lui Mi è il mio youtuber preferito Devi star avendo quello che dici Io ripeto ferro il mio youtuber preferito Non prenderlo in giro Lui non è da prendere in giro Va bene va bene Fai quello che vuoi Ma lui Non prenderlo in giro Non si tocca ferro Va bene Ho capito Ho capito Di che se non lo uccide Gli mandi Se non è vita Ti denuncio No prendono mazzo Mando il numero Tutta la tua classe Mando il numero Tutta la tua classe Bra No no mazzo Ti dà una calmata In questo momento sto mandando il numero Tutta la tua classe Ti giuro che mi stai facendo Hai poco tempo per uccidere Alla mia classe ma di numero No alla mia classe Sto con 74 persone 3 2 1 Non sto scherzando 74 persone No Lucchino è tutta colpa tua No 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 Fermo Numero inviato Numero inviato Lucchino se mi scrive uno su whatsapp Te fai una fine Te fai una fine Torna in lobby Che saluto la mia La mia lobby Eh se comunque Non è che t'abbia sgamato La fine dell'inizio partita Porca di quella Ciao Sono ferro in realtà E' un po' di schiavo Eee davvero Giurano eh Ma come hai fatto a accorgertelo Ho messo pure la voce modificata nel gioco Si nel gioco certo Io ti sentivo con la voce normale No cosa No zio dimmi Stai scherzando Giuro Ma quindi mi sentivi con io Che facevo la voce di me Oh hai spaccato eh Ma porca parca ma Ma no Io E' un fail incredibile sto video Andate bene a quel tal paese tutti Quinta che meglio